Ciao ragazzi, come va? Come andiamo? Come stiamo andando? In questa quarantena, non so più a che giorno sono, non sono riuscito a tenerne traccia neanche sulla mia lavagnetta, dovrò rifare i conti Ma sono in quarantena dal 6 di marzo, quindi fate un po' voi Parecchi giorni, e devo dire, incominciano ad essere pesanti Ma io in questo video voglio fare un quadro della situazione Negli ultimi giorni abbiamo un po' palleggiato tra calcio, tra calcio e finanza Se vogliamo un po' di politica legata all'ottualità del coronavirus Io ho dei dubbi, piano piano che la situazione sta andando avanti Io analizzo un po' quello che succede e non ho delle certezze Come molte persone hanno e che io invidio, perché si diceva beata ignoranza E io sono contento che tutti abbiano delle certezze Io qui non ho certezze e vi spiego anche i motivi tra poco Ho dei dubbi, analizzo, cioè analizzo, vedo i dati, li analizzo Se vogliamo analizziamoli, ma tanti dati sono comunque falsati Perché non sappiamo i veri numeri del contagio E mi faccio delle idee e cerco di capire dove stiamo andando Poi mi arrivano un video del dottor Shiva Mi arrivano tweet di Burioni, mi arrivano tweet di Tarro E adesso ne parliamo Allora, innanzitutto Facciamo un passo indietro Quando è iniziata questa quarantena Io sono stato uno di quelli che aveva detto Ragazzi, cioè fate la quarantena fatta bene Perché è chiaro che la situazione Era chiaro che la situazione era sfuggita di mano Tanto è vero che quasi subito ragazzi Quasi subito, insomma, tutti i ragazzi sono messi a casa a fare la quarantena Così pacificamente l'hanno accettata Perché chiaramente i numeri stavano crescendo esponenzialmente Poi tutte quelle cazzatelle, i runner, il vecchietto che fa la passeggiatina Quello che esce fuori e porta il bimba spasso Tutte queste cose che hanno fatto, chiaramente, accanire le persone su Facebook Perché annoiate davano sfogo della loro, così Dalla loro mancanza di raziocinio Irrazionalità, chiamiamolo così Dato che non so quanta percentuale di popolazione a Milano Sta ancora lavorando, si sta anche spostando Peraltro sto andando verso dei capelli molto ricci Devo dire, anche abbastanza gradevoli Subito like di supporto per i capelli Quindi il problema qual è? All'inizio si dava... L'avevamo accettata, perfetto Dopodiché io nella mia testa L'ho anche detto in qualche video Dico, cioè questa situazione di quarantena è necessaria Perché la situazione di sfuggire al controllo Chiaramente deve essere volta allo step successivo Cioè tu ti metti in quarantena per far cosa? Per arginare la situazione Per capire di che cosa stiamo parlando Per trovare delle soluzioni E quindi ho detto, ok, facciamola Un mese Due mesi Ragazzi, dopo due mesi Cioè qui la situazione doveva essere necessariamente migliore Non abbiamo ancora con questo il secondo mese Ma insomma, io dopo un mese Io l'ho fatto anche un po' su Instagram Tra l'altro ragazzi, seguitemi su social Perché sono un personaggio scomodo Ma seguitemi su social E su Instagram io vi ho chiesto Ho fatto, ma com'è possibile Ma voi sapete di aziende che sono state convertite? Molti mi hanno detto di sì Sono state convertite in produzione di mascherine E allora vi ho detto Ma com'è possibile che dopo un mese Santo cielo non siamo riusciti a Convertire le nostre aziende Le nostre fabbriche E non abbiamo fatto piovere mascherine sulle persone Cioè piuttosto che 600 euro Dell'iva Immagino che tutti avremmo gradito Top 5,50 Ma un pack di Ammuchina Mascherine Sterilizzatori Quello che vi pare Cioè un pacco gigante a famiglia Lo distribuivi E ci mettevi dentro tutto il necessario Per far sì che le persone potessero circolare In completa sicurezza Mi aspettavo questo dopo un mese In una situazione di emergenza totale Cioè di blocco totale di un paese Andiamo verso non so Le perdite del PIL 12, 13, 15, 20% Quello che sarà Cioè capite bene la situazione Allora hanno stato di guerra Cioè comportali come se fosse una situazione di guerra E non si è fatto E che già io lì Mi dico io Devo dire che Sono rimasto abbastanza sconcertato Ma lasciamo perdere la Come se La distribuzione dei soldi Come è venuta Come non è venuta Quello purtroppo dipende dal fatto che All'Inps Noi abbiamo All'Inps All'Inps La regione Lazia Cioè abbiamo una serie di personaggi Che non dovrebbero stare lì Perché non sono i migliori del loro settore Non sanno niente di informatica E ti fanno delle cose E ti dicono delle cazzate Come ha detto il presidente dell'Inps 10.000 domande al secondo Quanto aveva detto Non lo so neanche Vabbè Quindi 100 domande al secondo Sì 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 Un video crashato dopo 3 minuti Il discorso qual è Questa era la situazione Mi ha aspettato dopo un mese Di stare in questa situazione Perfetto Poi altra considerazione Che più o meno tutti avevamo fatto Quando erano uscite queste notizie La gente è partita da Milano E è andata al sud Cioè Milano In Lombardia Bergamo Brescia Ci sono delle situazioni folli Cioè il video si sta diffondendo In maniera folle ragazzi Folle Allora partono giù questi treni al sud Tutti quanti Apri di cielo Cioè qui ci sarà Uno stermine al sud Perché abbiamo visto a Milano Voglio dire È vero che a Milano Magari c'è una movita un po' Più accentuata Rispetto a alcune zone del sud Però al tempo stesso Mi viene a dire che a Milano Ci sono anche molti ragazzi Che lavorano lì C'è gente giovane Quindi forse Molti ecco Molti del sud Che stavano a Milano Non stavano in In abitazioni O comunque Non vivevano con i genitori O parenti anziani Quindi forse Lì i contagi erano alti Ma la mortalità La letalità Forse era bassa I contagi chiaramente Non sono quelli riscontrati da numeri Ma molto superiori E mi aspettavo che cosa Come la maggior parte delle persone Temevano Cioè al sud Ragazzi sarà Sarà un disastro Cioè tutti questi Che sono andati al sud Avranno contagiato Tutti i familiari Che usciranno a fare la spesa Che contagiranno altre persone E saranno all'istruzione Così non è stato Cioè questa mi pare Un'analisi Che non so Se qualcuno ha fatto Io sinceramente Non l'ho sentita Adesso mentre parlo con voi Sono curioso Di andare a cercare Con una virus Italia Regioni Worldometer Che è il sito Che mi chiedete sempre Da dove prendo i dati Vediamo se esce qualcosa Comunque Comunque Sa rifatto Che Che il discorso Qual è Il discorso È che al sud Ragazzi Non è successo Quello che è successo Al nord E allora La domanda che mi faccio io È Ma c'è qualcosa Che è di diverso Al sud Rispetto a Milano Cioè perché Dopo due mesi Mi sembra evidente Che non si sta diffondendo Non c'è il discorso Per regioni Speravo ci fosse Qui sul suo Worldometer Lo fanno per gli stati Degli Stati Uniti Ma chiaramente Perché sono Molto più grandi Cioè al sud Ragazzi Non si sta diffondendo Come il nord Italia Cioè qualcosa Ci deve essere di diverso E allora qui Iniziano poi Inizio a informarmi Inizio a capire un attimo Gli studi Che stanno facendo Nel mondo Perché non c'è solo Uno studio E dato che stiamo parlando Di una materia Su cui due virologi Molto famosi Cioè da una parte C'è Tarro Che ha lavorato Sul colera A Napoli E su una malattia Legata alla bronchiolite Per i bambini E dall'altra c'è Burioni Che tutti conosciamo Che hanno posizioni Completamente diverse Quindi non c'è Una verità assoluta Su questo virus Non c'è Chi ha una toria certa Cioè io Continuo a ripetervi Sono contento per voi Abbiate delle certezze Ma purtroppo Non ce ne sono E neanche meno Su questa situazione Tanto è vero Che qui Casca l'asino Perché Da una parte C'è chi sostiene Che questo virus Sia un virus Che non possa essere Arginato Con un vaccino Che è Tarro Allora tutti noi Stiamo aspettando Ma esce il vaccino E esce il vaccino E esce il vaccino E c'è Un virologo Che ti dice Guarda il vaccino Può uscire Ma tu Che cosa fai Lo Praticamente Lo prepari Lo predisponi Su un ceppo Quello lombardo Che è diverso Dal ceppo Di Wuhan Per esempio Che è diverso Dal ceppo americano E quindi Praticamente Potresti avere un vaccino Che è totalmente inefficace O comunque È un'efficacia limitata E quindi Che significa Che stiamo tutti Aspettando questo vaccino Quando probabilmente Questo vaccino Non ci darà risultati Sperare Quindi Questo è il primo punto Probabilmente Sarà inutile Poi stiamo aspettando Un vaccino Che viene testato Due tre mesi Sulle persone Quando di solito Ci sono due anni Di test Quindi stiamo parlando Di un vaccino Che è stato molto accelerato È sicuro Non è sicuro Questi sono Gli altri quesiti Poi c'è il video Del dottor Shiva Non so se l'avete visto Se non l'avete visto Ve lo linko lì sotto Io non è che sto dicendo Che abbia totalmente ragione Perché su alcune cose Mi sento di poter dire Di non essere d'accordo Però stiamo parlando sempre Di una materia Che è sconosciuta Chiaramente Il dottor Shiva È uno dei teorizzatori Principali Del deep state Cioè del Vabbè Vi vedete Tutta l'intervista Insomma E fate la vostra idea Io non vi dico Di aver ragione Di aver torto Vi dico sempre Di sentire tutte le campane E di ragionare Con la vostra testa E E praticamente Si fa un'analisi Sul fatto che Ci sono Delle Degli elementi esterni Delle vitamine Carenze vitaminiche Che possono provare Provocare chiaramente Uno stato di immunodepressione Di compromettere Il sistema immunitario Del corpo Che dovrebbe essere In grado di reagire A questi virus Io se è vero Non è vero ragazzi Vi ripeto Non lo so Però vado a prendere Poi le dichiarazioni di Tarro Le incrocio un pochettino E Probabilmente Mi faccio questa idea Che in questo momento Non ci stiamo comportando bene Perché Detta la prima fase Di Di Chiusura totale Che vi ripeto Ci può stare Perché ti devi riorganizzare Ti è arrivato uno schiaffo Ti devi un attimino Fermare E devi E devi rialzarti In questo momento Io non capisco Che cosa si sta facendo Che cosa si stia facendo Utilizziamo il congiuntivo Che è più bello Perché io mi aspettavo In questo momento Di avere Tamponi Fatti A rotta di collo Mi aspettavo Di avere la popolazione Tamponata Anzi io dico sempre tamponata Ma insomma Analizzata In gran parte E non è stato così Cioè non si fa Per quelli che stanno a Milano Figuriamoci al sud Italia Perché poi Io vi voglio vedere I numeri Di quelli contagiati Io all'inizio Della quarantena Ho detto ragazzi Cioè in sud Corea Stanno facendo i tamponi Col drive-in Cioè se uno Ha un po' di tossetta Ma al drive-in Avrà la bocca Gli ficcano il tampone Dice nome e cognome Gli arriva un messaggio Se è positivo o meno al coronavirus Qui in Italia Non ci arriveremo mai Quindi vi dico Cioè in sud Corea Stanno facendo un lavoro Di analisi Quasi perfetto Allora vi dico Il tasso di letalità Di questo virus 0,7% Bene Fate i morti Che abbiamo in Italia Perché poi alla fine I morti ce li hai Ce li hai lì La maggior parte Sono tutti riconosciuti Fate il numero Dei morti Che ci abbiamo Dividetelo per 0,7% Avete il numero Dei contagiati Quanto fa? Non lo so Non l'ho fatto Però insomma Burioni stesso Parlava di un ipotetico 6 milioni di persone contagiate E allora se sono 6 milioni di persone contagiate Mi verrebbe da dire E allora dobbiamo un attimino Iniziare a riaprire le cose Perché 6 milioni di persone contagiate Più servizi essensali Più questo Più quell'altro Cioè grosso modo Ma da Italia Penso Un terzo Possa ripartire Sarebbe già Una bella cosa Dall'altra parte Poi c'è Quest'altro dubbio Cioè Ti crea immunità Cioè dopo che te lo sei preso Te lo puoi riprendere Pare di sì In alcuni casi Ma perché? Perché non hanno sviluppato Gli anticorpi Oppure perché il virus È mutato E ti può riattaccare Questa cosa qui Non è chiara C'è uno stato Di confusione totale Stati fatto Che ad oggi Quello che mi aspettavo Era che Che tutti quanti Fossero C'è uno screening completo Adesso vedo Dei bandi Per il 3 maggio Si sta facendo Il bando Capito? Cioè si sta facendo Il bando Per il 3 maggio È l'unica cosa Che si può fare Non lo so ragazzi Non sono esperto Di diritto amministrativo Forse sì Ma se fa il bando Vabbè Facciamo sto bando Per il 3 maggio Per 150.000 Test sierologi 150.000 Cioè ma a maggio Dovamo sparare fuori Roba di tipo 500.000 Mione a giorno Cioè dovevamo farli tutti Ragazzi Ma tutti Ma perché tu investi In quello E poi ha un ritorno Da che cosa? Dal fatto che Ti riesci a organizzare A ripartire con l'economia Cioè l'investimento serio Va fatto su questo Perché è quella La strada per ripartire Cioè chi ha comunque sviluppato Un'immunità Anche se è un'immunità Su questo ceppo Cioè prima che Si evolverà Forse tra un anno Non sarà più vale Questa immunità Intanto Cavolo Facciamo uscire queste persone fuori Iniziamo a riprendere A far girare l'economia Perché altrimenti qui È un disastro E poi dopo Vediamo come si evolve L'associazione Cioè navighiamo a vista Ma mi sembra chiaro Che se tu non hai Una panoramica generale Sui numeri Cioè non puoi discutere Di niente Di niente Di niente E vedere questi due virologi Che comunque Hanno posizioni Completamente contrapposte Mi fa capire Che la verità Qui non c'è Perché non c'è Perché ancora Non l'hanno capita Manco loro Non l'hanno capita Neanche loro E il fatto che comunque Degli organismi Cioè Il fatto comunque Che ci siano studi Che ti dimostrano Che questo virus Ha attaccato Chi aveva problemi Per esempio Di diabete Cioè Ci sono delle statistiche Sulle malattie Sapete Quando si dice Era già Aveva già Delle malattie Precresse Ecco Aveva problemi Di diabete Chi Aveva carenze Di vitamina D Cioè hanno riscontrato Anche un collegamento Con la carenza Di vitamina D Che ti crea Queste problematiche Respiratorie Poi il virus Non si è scoperto Non è solo un virus Che attacca Insomma Le vie respiratorie Ma attacca anche Altri Altre parti del corpo Insomma Quindi il discorso È Il discorso è questo Cioè Bisogna capire E non si capisce Ma non possiamo Più rimanere fermi Cioè non si può Rimanere fermi Io vedo che in questa fase Non c'è Non c'è un'idea chiara Sai del tipo Abbiamo messo tre Poi non ci sono i reagenti Per fare i tamponi Qualcuno mi risponde Su questa cosa Io non riesco Cioè non ci sono i reagenti Ma i reagenti Non siamo Non siamo in grado Di farli Cioè I reagenti Era la prima cosa Che boh È scoppiata l'epidemia Fermi tutti Troviamo tre fabbriche Volemo far bando Famo una bando Basta che famo i bandi Famo lavorare Amministrazione pubblica Famo i bandi Non è che Se poti Toi pago io Sa quanto me To pago Fammi Do miardi dei reagenti No facciamo un bando Ok facciamo questo bando In situazione di emergenza Facciamo il bando Ok perfetto Quello che volete Facciamo un sto bando Non siamo riusciti A farci reagenti Ma siamo allucinati Cioè Che di fioce C'è a fare agenti Ma che Che ci vuole La criptonite Che materiale ci vuole Per fare agenti Dei cose Io non capisco Non ci stanno i cristiani Che fanno i tamponi Cioè Gente che te legge Che te legge Il risultato Sul microscopio Cioè non ci stanno questi Chi manca Come mai non abbiamo fatto i tamponi Io sta cosa Non riesco a capirla Ragazzi Faremi sapere Che ne pensate Questo era un po' Il sunto Degli ultimi giorni Non riesco a fare Spesso video Per situazioni Che chi segue Valeria Il Clash Royale Dinerante Sa bene Seguitemi anche Su quel canale Di gaming Ragazzi Il canale di gaming Più bello Di youtube Penso È stato votato Nel 2020 Quindi ragazzi Io vi saluto E vi ringrazio Faremi sapere la vostra Ciao tattico E ciao a tutti quanti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti